San pros docimo. Come tramanda la tradizione fu uno degli evangelizzatori del Veneto nel periodo delle invasioni barbariche. Originario di Antiochia per volontà di Pietro fu primo vescovo e patrono della diocesi di Padova. Il culto nacque nel luogo che ne custodiva un'immagine clipeata nel VI secolo oggi collocata nella basilica di Santa Giustina. Si suppone una ripresa del culto nell'ultimo quarto del secolo undicesimo nel quadro di una risistemazione della chiesa padovana. Il 3 gennaio 1076 il vescovo De Rico donò una cappella extraurbana a lui intitolata al monastero di Santa Giustina e di San pros docimo. Il culto del santo è molto radicato a livello popolare viene spesso invocato per la protezione del raccotto.